ciao a tutti benvenuti o bentornati ancora oggi nel mio canale youtube finalmente un velocissimo ma bellissimo video tutorial dove vi spiegherò la realizzazione di questa mattonella che vedete qui per realizzare appunto un decoro sulle nostre borse in iuta con tasca in cotone che abbiamo appena inserito sul nostro shop mercerietaliartisan.com come potete ben notare ho realizzato già io tre mattonelle oggi insieme andremo a fare la quarta vi mostrerò quindi tutto il procedimento e vi parlerò del filato con cui sono andata a realizzarle allora queste mattonelle vanno bene sì per ricoprire le nostre borse in iuta ma non solo possiamo crearci delle fantastiche maglie traforate molto estive da indossare con qualcosa sotto possiamo andare a realizzarci dei runner per il nostro tavolo elegantissimi possiamo realizzarci delle gonne delle maxigonne bellissime estive super confortevoli possiamo realizzarci delle maglie abitini tutto quello che la fantasia vi suggerisce quindi la piastrella da sempre all'uncinetto la piastrella all'uncinetto è un passepartout oggi andremo a vedere questa realizzazione ma prima voglio parlarvi del filato che ho utilizzato è vero che il modellino è particolare ma a renderla così semi rigida freschissima e piacevolissima al tatto è proprio lui il filato fresh di lana gatto è un puro lino quindi qualcosa di eccezionale un puro lino made in italy immancabile per le realizzazioni estive all'uncinetto assolutamente se non avete mai provato il puro lino dovete farlo perché ha un tatto come dicevo molto naturale semi rigido come notate ma molto piacevole al tatto non pizzica non dà fastidio anzi sentite proprio la naturalezza di questa fibra che da secoli viene impiegata per appunto la realizzazione di varie di svariate cose tra cui appunto anche l'abbigliamento estivo andiamo a vedere i colori di questo meraviglioso fresh me ne sono preparati un po ma sul nostro sito mercerietali artisan.com potete andarne a vedere potete andarli a sbirciare tutti uno per uno abbiamo questo fantastico grigio è un grigio perla che io ho deciso di utilizzare per la mia mattonella e un gomitolo guardate questo è ancora la rimanenza di un gomitolo un gomitolo vi basterà per andare a ricoprire la tasca di questa borsa che misura in tutto 30 x 30 x 19 quindi è una media dimensione perfetta per essere utilizzata come borsa da passeggio o shopper abbiamo quindi il codice 81 71 nel grigio io ho lavorato col tre millimetri di uncinetto 100 per cento lino e abbiamo 163 metri in 50 grammi quindi ottimo ottimo anche il metraggio andiamo a vedere mi sposto con la mia borsa perché ci segui ci servirà in un secondo momento anche il celeste bellissimo una carta da zucchero quasi molto chiaro quindi un mix tra un celeste un carta da zucchero 87 10 e il suo codice poi ancora il color mattone molto naturale e se volete fare degli abbinamenti e quindi creare la piastrella multicolor sappiate che potete farlo ad esempio mattone grigio e bianco è un'idea il bianco appunto al codice 92 63 il mattone al codice 87 14 poi abbiamo questo bel verde con il codice 81 73 un verdone più scuro e guardate anche qui gradazioni di coloro di colore scusate tono su tono che possiamo andare a fare il verdone invece il verde scuro al codice 88 67 e ancora c'è il lilla lilla con il codice 87 11 che anche insieme ai verdi e al bianco trovo bellissimo quindi questi sono i filati adesso mi sposto e andiamo a iniziare la lavorazione della nostra piastrella per realizzare dunque la nostra piastrella procediamo prendendo il nostro filo uncinetto 3 mm ed avviamo 4 catenelle 1 2 3 4 entriamo nella primissima catenella stringo un po e chiudo con un punto bassissimo così abbiamo creato il nostro forellino iniziale ovviamente voi andate ad allargare un po e noterete ecco la parte iniziale il forellino qui al centro andiamo ad alzarci di quattro catenelle 1 2 3 e 4 due volte filo sull'uncinetto e andiamo ad entrare in quello che vi dicevo essere il forellino centrale che si forma tra le catenelle eccolo qui e vado a lavorare una maglia altissima quindi una doppia maglia alta ecco fatto il primo passaggio e le nostre prime quattro catenelle vanno a sostituire la prima maglia altissima un'altra l'abbiamo fatta e adesso 3 catenelle e andiamo a fare due gettati sull'uncinetto entriamo sempre all'interno e lavoriamo la maglia altissima a metà quindi chiudiamo una volta chiudiamo due ci rimangono due anelli sull'uncinetto non li chiudiamo di nuovo due volte filo sull'uncinetto e facciamo entrando sempre al centro del nostro fiorellino un'altra maglia altissima a metà quindi chiudendo due volte a questo punto ci ritroviamo con tre anelli sull'uncinetto filo sull'uncinetto li chiudo tutti quindi abbiamo un secondo gruppo di maglie altissime stavolta chiuse insieme nel primo giro abbiamo le quattro catenelle quindi poi una la lavoriamo semplice nella nella seconda parte il secondo motivo non giro le andiamo a lavorare insieme e dobbiamo avere otto petali in questo modo quindi procediamo di nuovo con le tre catenelle di separazione due volte filo sull'uncinetto entro all'interno sempre del mio foro e vado a lavorare la maglia altissima a metà chiudendo una volta e due volte lasciamo i due anelli sull'uncinetto due volte gettato rientriamo e di nuovo chiudiamo la maglia altissima una e due volte vedete che abbiamo adesso abbiamo tre anelli filo sull'uncinetto li chiudiamo tutti insieme e 3 catenelle di nuovo vedete già abbiamo tre petali ne dobbiamo avere otto per chiudere il nostro primo giro quindi due volte filo sull'uncinetto entro chiudo una maglia altissima a metà due volte filo sull'uncinetto entro chiudo la seconda mai altissima a metà poi filo sull'uncinetto e termino di chiuderla insieme di nuovo 3 catenelle e procediamo con questa lavorazione ripeto fino ad ottenere otto petali eccomi tornata una volta ottenuti tutti e 8 i nostri petali che andiamo lì così andiamo a lavorare le ultime 3 catenelle e ci andiamo ad unire 123 qui nella quarta delle catenelle iniziali che formavano il nostro primo punto altissimo ecco fatto ci siamo uniti andiamo adesso per il secondo giro ad entrare qui nel primo foro di separazione tra i petali con una maglia bassissima poi facciamo una catenella ed entriamo sempre nello stesso foro con una maglia bassa quindi realizziamo una maglia bassa 5 catenelle passiamo nel secondo foro di separazione tra i petali e maglia bassa 5 catenelle entriamo nuovamente nel prossimo foro una maglia bassa 5 catenelle saltiamo nel prossimo foro una maglia bassa e procediamo semplicemente così facendo 5 catenelle una maglia bassa in ogni foro fino alla fine anche di questo secondo giro eccomi alla fine del giro dopo le ultime 5 catenelle andiamo a chiudere con una maglia bassissima qui nella prima maglia bassa del giro precedente ecco in questo modo quindi abbiamo tutti i nostri archetti andiamo a procedere con il terzo giro come facciamo entriamo qui nel primo archetto da 5 catenelle con una maglia bassissima e ci alziamo con ben 6 catenelle 5 sostituiscono una tripla maglia alta è una catenella andrà a formare la catenella di separazione quindi in totale 6 catenelle adesso 3 gettati sull'uncinetto 1 2 3 e 4 chiusure catenella di separazione 3 gettati sull'uncinetto e andiamo a fare lo stesso 1 2 3 e 4 chiusure catenella di separazione 3 gettati tripla maglia alta 1 2 3 4 chiusure catenella di separazione e procediamo sempre lo stesso modo e sempre nello stesso archetto fino ad ottenere inclusa la prima attenzione quindi incluse le cinque catenelle più una iniziali dobbiamo ottenere 11 maglie altissime quindi 1 2 3 4 e 5 le abbiamo già fatte procediamo fino ad averne 11 eccomi tornata realizzate 11 in totale a questo punto dopo l'ultima tripla maglia alta non facciamo catenelle di separazione ma passiamo al prossimo archetto qui andiamo a realizzare una semplicissima maglia bassa tre fili tre volte scusate il filo sull'uncinetto e passiamo nel seguente archetto lavorando un altro modello di triple maglie alte separate dalla catenella quindi prima maglia altissima tripla maglia alta una catenella è tripla maglia alta una catenella e così via fino ad ottenerne anche in questo archetto sottostante 11 quindi sempre tripla maglia alta separate una dall'altra da dalla catenella di separazione quindi andiamo a fare questo stesso lavoro poi nell'archetto seguente andiamo a lavorare la maglia bassa come abbiamo appena fatto poi nel prossimo un altro modello di maglie altissime triple maglie alte nell'altro archetto maglia bassa e ci rivediamo quando facciamo l'ultimo modello come vedete dalla nostra piastrella sono uno poi maglia bassa poi 2 poi maglia bassa 3 maglia e 4 quindi a formare una specie di fiore a 4 petali di maglie triple maglie alte eccomi tornata dopo aver finito l'ultimo petalo di triple maglie alte e abbiamo a disposizione l'ultimo archetto dove vado ovviamente ad entrare lavoro la mia maglia bassa e per unirci vado a contare una due tre quattro e cinque delle sei maglie alte delle sei catenelle scusate iniziali che avevo utilizzato per iniziare il giro precedente quindi nella quinta entro con una maglia bassissima e chiudo il mio giro vado a recuperarla maglia bassissima e chiudo il mio giro adesso faccio una maglia bassissima anche qui tra la prima tripla maglia alta e la seconda del giro sottostante questa la faccio più morbida e mi alzo di tre catenelle più una che sostituiranno una maglia alta più una catenella quindi tre vanno a sostituire la prima maglia alta una sarà la catenella di separazione passo tra le prossime due maglie triple sottostante faccio una maglia alta semplice una catenella di separazione tra le prossime due un'altra maglia alta semplice una catenella di separazione tra le prossime due una maglia alta semplice è una catenella di separazione ora incluse le prime maglie per iniziare il lavoro dobbiamo avere quattro maglie alte e una catenella a questo punto arriviamo in all'angolo diciamo andiamo a lavorare così l'angolo nel prossimo spazio invece di lavorare una maglia alta semplice facciamo una maglia alta lavorata a metà filo sull'uncinetto rientro nello stesso punto una maglia alta lavorata a metà le chiudo tutte e due insieme poi faccio tre catenelle di separazione e faccio l'altra parte d'angolo passando nella prossima nel prossimo spazio tra le seguenti due maglie triple maglie alte sottostanti e faccio lo stesso lavoro una maglia alta a metà filo sull'uncinetto un'altra maglia alta a metà filo sull'uncinetto e le chiudo entrambi insieme una sola catenella di separazione e adesso mi rimangono quattro spazi in cui andare a lavorare quattro maglie alte separate da una catenella come abbiamo fatto per questa parte iniziale quindi maglia alta semplice catenella seconda mai alta semplice catenella terza mai alta semplice e catenella quarta alta maglia semplice arrivati a questo punto abbiamo lavorato il nostro vedete il nostro angolo 4 maglie angolo 4 maglie ci ritroviamo con la maglia bassa qui facciamo una catenella sempre di separazione entriamo nella maglia bassa sottostante e lavoriamo una semplice maglia alta ora riprendiamo per il secondo petalo con una catenella di separazione e partendo non tra lo spazio che abbiamo ottenuto tra la maglia bassa il primo punto triplo ma tra i primi due punti tripli quindi filo sull'uncinetto una maglia alta una catenella seconda maglia alta nel seguente spazio una catenella spazio successivo terza maglia alta una catenella spazio successivo quarta maglia alta una catenella adesso andiamo a lavorare nuovamente l'angolo come abbiamo appena fatto per il petalo successivo quindi precedente scusate quindi entriamo nel successivo spazio è una maglia alta a metà una seconda maglia alta a metà filo sull'uncinetto li chiudo insieme tre catenelle di separazione passo nel prossimo spazio una maglia alta a metà seconda maglia alta metà nello stesso spazio le chiudo insieme e catenella semplice di separazione fatto l'angolo andiamo a fare quattro maglie alte una in ciascuno dei seguenti spazi separati tutti da una catenella 2 e catenella 3 catenella 4 catenella e ci ritroviamo sulla maglia bassa dove facciamo maglia alta catenella e riprendiamo esattamente come abbiamo fatto fino a questo punto a lavorare anche per i prossimi due petali ci rivediamo alla fine del giro per completa per completarlo con un ultimo giro di maglie basse eccomi anche alla fine di questo quarto giro andiamo a creare l'ultima maglia alta sulla maglia bassa sottostante e facciamo la catenella di separazione per unirci contiamo 1 2 e 3 delle prime catenelle iniziali e andiamo ad entrare lavorando una maglia bassissima chiudendo così la nostra il nostro giro di piastrella andiamo a fare l'ultimo giro che è quello di rifinitura della nostra piastrella entrando proprio tra ogni maglia alta e lavorando due maglie bassi all'interno di ciascuna partendo proprio dal primo spazio quindi una e due maglie basse passo nel prossimo spazio tra le maglie alte una e due maglie basse stessa cosa qui una e due maglie basse ancora una e due maglie basse e poi ci ritroviamo ad avere lo spazio d'angolo quindi quello formato dalle 3 catenelle del giro precedente qui cambia un po perché semplicemente dobbiamo fare le due maglie basse separarle da due catenelle rientrare nello stesso spazio e altre due maglie basse una e due poi passiamo ai prossimi spazi e facciamo tutto così uguale 2 maglie basse successivo spazio 2 maglie basse spazio seguente 2 maglie basse così via fino a raggiungere l'altro angolo dove andremo a lavorare esattamente 2 maglie basse 2 catenelle 2 maglie basse e poi 2 maglie basse tra ogni maglia alta sottostante così fino alla fine di questo quinto ed ultimo giro di piastrella ed eccomi arrivata dopo le ultime due maglie basse a fine giro dove ovviamente chiuderemo con una maglia bassissima nella prima maglia bassa di questo giro proprio dell'inizio del giro in questo modo andiamo a tagliare il filo e abbiamo ottenuto la nostra quarta piastrella ora io vi mostrerò come vado ad unire le quattro piastrelle e poi le scontorneremo insieme soltanto a destra e a sinistra per andare a raggiungere la dimensione ideale per essere poi cucite quindi applicate sulla nostra tasca della borsa in alta per unire le nostre piastrelline vado a metterle dritto contro dritto in questo modo e possiamo unirle maglia bassissima andando a prendere le maglie corrispondenti partendo proprio qui dall'angolo quindi dallo spazietto di 2 catenelle prendiamolo correttamente qui nell'angolo vado entrare nello stesso spazietto in quest'altro angolo mi vado a recuperare il filo stesso filo di lavorazione ovviamente entro tiro il filo attraverso entrambi gli angoli e lo blocco con una catenella a questo punto vado ad individuare pian piano e con un po di pazienza punto per punto corrispondente entrando in entrambi filo sull'uncinetto è maglia bassissima stessa cosa faccio per i prossimi quindi maglia bassa e maglia bassa corrispondente e maglia bassissima il filo in più lo potete nascondere durante la lavorazione o lo potete mettere da parte e nascondere in un secondo momento con lago da lana diciamo un ago grosso quindi scusate ecco maglia bassa e corrispondente maglia bassa filo sull'uncinetto chiudo tutto insieme in una maglia bassissima posso alle prossime maglia bassa e maglia bassa corrispondente e faccio lo stesso lavoro ovviamente per tutto il lato del nostro quadratino ecco qui per tutto questo lato fino all'altra punta poi vado ad accostare altre due piastrelle qui e vi mostro come procedo eccomi tornata o come potete vedere cucito a maglia bassissima e la cucitura non si vede assolutamente le prime due piastrelle adesso anche le altre due vedete le metto dritto contro dritto in questo modo vado a recuperare l'occhiellino qui nell'ultimo punto lavorato allora scusate rimettiamo posto quindi in questo modo dritto contro dritto e passiamo da queste piastrelline alle altre due in che modo facciamo un'ultima catenella dopo aver lavorato l'ultima maglia bassissima qui nell'angolo dopo la catenella vado ad entrare nell'angolo e nell'altro angolo delle prossime due piastreline da unire entro attraverso e faccio una maglia bassissima ecco fatto il passaggio tra due piastrelle e le altre due che ovviamente continuerò ad andare ad unire cucendo a maglia bassissima come ho fatto per le due precedenti quindi punti corrispondenti entriamo e punto bassissimo ovviamente questi punti bassissimi cercate di lavorarli né troppo morbidi né troppo stretti una via di mezzo per mantenere una cucitura che non tiri ma che non sia nemmeno troppo lenta quindi vedete in questo modo andiamo a effettuare il la continuazione di cucitura una volta fatto questo staccheremo qui all'angolo quindi faremo il nodino di sicurezza staccheremo avremo quattro piastrelle unite in questo senso cosa facciamo una volta che abbiamo fatto questa unione le giriamo in questo modo perché qui vedete che è tutto libero e giriamo in questo modo pieghiamo in quest'altro modo in quest'altro senso le nostre piastrelle e facciamo esattamente la stessa identica cosa quindi cucitura maglia bassissima per quest'altro lato quindi andiamo ad ottenere un grande quadrato unito da queste quattro piastrelline quindi buona cucitura maglia bassissima e ci vediamo dopo per cucire anzi per continuare lateralmente un po il modello e quindi avere un rettangolino che ci servirà per poi essere cucito sulla nostra borsa indiuta eccomi tornata come potete notare ho finito di unire le quattro mattonelle non guardate questa parte qui perché adesso ve la andrò a spiegare la faremo insieme ho unito le quattro mattonelle come vi dicevo andate a nascondere le codine all'interno della lavorazione guardate vedete l'unione maglia bassissima pulita pulita perfetto poi le ho posizionate al centro del mio rettangolo perché ovviamente noi otteniamo un quadrato ma la tasca da rivestire un rettangolo quindi cosa ho fatto posizionato le mattonelle al centro che hanno l'altezza perfetta per la tasca vedete quindi lascerò la parte beige fuori e qui arriverò a filo perfetto a questo punto che faccio vado ad allungare semplicemente le mattonelle da un lato e dall'altro con dei giri di maglia altissima e maglia alta affinché il mio rettangolo diventi della misura del della tasca della borsa che dobbiamo andare a rivestire quindi ho notato che mi basterà un giro di maglia altissima è un secondo giro di semplice maglia alta che adesso andremo a fare insieme su quest'altro lato delle nostre mattonelle vi mostro semplicemente come fare ma sono sicura che procederete in maniera spedita anche da sole perché è facilissimo allora vado ad attaccarmi qui all'angolo delle mattonelle come vi avevo fatto vedere prima durante l'unione delle stesse quindi vado ad unirmi e faccio una catenella di sicurezza che vado a stringere e che faccio mi alzo di tre catenelle quindi tre volte 3 catenelle due volte il filo sull'uncinetto e che cosa faccio in ciascun punto basso della rifinitura vado ad entrare mi lavoro una maglia altissima quindi 12 e 32 volte filo sull'uncinetto mi sposto sul prossimo punto basso disponibile faccio la stessa cosa maglia altissima due volte filo sull'uncinetto mi sposto è maglia altissima stessa cosa maglia altissima eccetera eccetera quindi per tutto questo giro guardate per tutto questa parte faccio questo lavoro in ciascun punto basso disponibile una maglia altissima e ci vediamo per il secondo ed ultimo giro poi avremo il nostro rivestimento da andare a cucire semplicemente sulla tasca in cotone io ometterò questo passaggio perché davvero molto semplice se sapete già cucire a mano è davvero qualcosa di facilissimo perché andremo a prendere un semplicissimo ago da cucito e andremo con un filo ovviamente da cucito in tinta al al colore che avremo scelto per il nostro rivestimento quindi per le nostre mattonelle andremo a cucire in sottopunto il che significa che noi andremo a prendere la catenella interna la parte diciamo ecco la parte più interna quindi quella più nascosta qua dietro questa parte di catenella guardate se riesco a prendervela allora la parte ecco questa parte qui di catenella la parte che dà sulla borsa non quella che dà a noi diciamo di fronte a noi e la vado a cucire con un sottopunto qui nella diciamo nella giuntura alla fine proprio dove abbiamo la tasca in cotone in questa parte qui quindi andiamo con dei micro puntini a cucirla tutta fino qui in fondo poi facciamo la stessa cosa procedendo qui da questa parte poi ovviamente tutto la stessa lo stesso lavoro lo facciamo anche per la parte superiore cosicché il tutto aderisca molto bene alla nostra tasca di cotone presente nella borsa in iuta una volta fatto questo il nostro lavoro sarà finito ovviamente se volete io lo farò quasi sicuramente andate a svaporare con il ferro da stiro attenzione a distanza non a contatto ma a distanza solo con il vapore a distanza di 10 cm 5 cm circa la nostra lavorazione per far sì che la fibra leggermente si stenda un po e si appiattisca un po però ripeto non andate a contatto perché rischiereste di rovinare il vostro lavoro quindi adesso vado a fare le mie maglie altissime poi vi mostro come fare le maglie alte e poi ci salutiamo ed eccomi arrivata alla fine del giro di maglie altissime faccio semplicemente due anzi scusate 3 catenelle una due e tre giro il mio lavoro e vado a procedere con una maglia alta su ciascuna maglia altissima sottostante quindi faccio l'ultimissimo giro di bordura quindi semplici maglie alte una volta arrivata alla fine del giro che cosa faccio catenella di sicurezza e qui e vado a chiudere il mio lavoro guardate teniamo quindi la dimensione perfetta vedete l'altezza perfetta per andare a cucire la nostra il nostro rettangolo di mattonelle qui nella nella tasca quindi procedete alla cucitura come vi ho menzionato prima con un sottopunto e semplice ago da cucito sulla tasca di cotone e con dei punti nascosti e avrete così terminato la vostra personalizzazione della borsa in iuta con tasca io vi ringrazio per avermi seguita fin qui spero che il progetto vi sia piaciuto se lo rifarete se lo farete in altre varianti con altre mattonelle con altri colori magari invece della stessa mattonella che vi ho proposto io fatemi sapere se vi fa piacere mostratemi i vostri lavori sul nostro gruppo merceria italia artisan in franza su facebook oppure insomma per qualsiasi cosa commentate qui sotto e vi risponderò per i materiali ovviamente vi aspetto sul nostro sito merceria italia artisan.com grazie ancora e alla prossima grazie a tutti grazie a tutti